Penso che la nostra società è gestita da persone dementi, per piani dementi, e adesso posso metterlo per iscritto, che siamo gestiti da pazzi perfini folli. Se ognuno potesse mettere per iscritto quello che il nostro governo, il governo americano, quello russo e cinese, su quello che stanno veramente cercando di fare, come o quello che pensano di fare. Io penso che sono tutti pazzi. 1962, sette anni prima del finto atterraggio sulla Luna. La mia famiglia era povera e quell'autunno ci siamo trasferiti sulle ridenti colline del lago di Garda. Ma i nostri vicini erano ancora più poveri di noi. Ricordo quando i miei mi raccontavano che loro, per risparmiare, spegnevano il gas una volta raggiunto il bollore della pentola e che la pasta si cuoceva lo stesso. 2022, 51 anni dopo l'ultimo finto allunaggio. Il premio Nobel Giorgio Parisi consiglia di cuocere la pasta a fuoco spento per consumare meno e contrastare gli effetti della crisi energetica. Dovete sapere che le piante, oltre a rilasciare l'ossigeno durante il giorno, crescendo accumulano l'anidride carbonica, CO2, dall'aria e dal terreno che viene nuovamente liberata in atmosfera durante la combustione del legname. Bruciare la legna crea un circolo naturale, perché se si pianta un altro albero al posto di quello bruciato, questo assorbe l'anidride carbonica emessa in atmosfera, con bilancio totale d'emissione e il riassorbimento dell'anidride carbonica, CO2 pari a zero. Si tratta di una risorsa che non incide sulle concentrazioni di anidride carbonica nell'atmosfera, pertanto non è assolutamente causa del surriscaldamento globale del pianeta. Anche i combustibili fossili emettono nell'atmosfera l'anidride carbonica CO2, che in natura è relegata al sottosuolo, ma che non può essere riassorbita. È l'anidride carbonica che viene rilasciata dalla combustione di gas e di gasolio, tutti e due estratti dal sottosuolo, che permane in eccesso nell'atmosfera, innescando il meccanismo dell'effetto serra. Prima di spegnere i caminetti e le stufe, iniziate ad andare a piedi. Ebbene sì, vogliono farsi credere a tutto quello che non è vero, ma possiamo ancora farcela. Basta solo...